ciao a tutte allora come vedete dalla foto è uno scialle invernale quindi è completamente fatto in lana almeno io l'ho realizzato con della lana voi però potete poi realizzarlo come meglio volete quindi adesso vi propongo il modello ovviamente erano dei filati che io avevo ho utilizzato il panna che è un gomitolo di ricky di filati discount e tutto il resto tutta l'alternanza dei colori che si vedono sono è sempre il bixi di filati discount il colore predominante che questo cammello è sempre il bixi io vi ho fatto vedere in una precedente recensione di questo filato che avevo ricevuto una campionatura per cui è mia consuetudine nei periodi di transizione tra una tra una stagione e l'altra andare a recuperare un po di filato per diminuire anche un po lo stasce che abbiamo in casa ovviamente se gradite questo tipo di progetto con lo stesso filato io vi lascio tutti i riferimenti sotto nell'info box al contrario potete realizzarlo comunque con qualsiasi tipo di filato e con l'uncinetto corrispondente poi al filato che avete scelto per problemi di spazio qui non entra interamente tutto lo scialle quindi posso farvelo vedere così diciamo a pezzettini è uno scialle che si lavora veramente davanti alla tv utilizzando quello che volete e senza dovervi impegnare troppo nella nel guardare uno schema bisogna solo fare attenzione ai primi tre quattro giri quindi l'avvio è importante per avere poi la suddivisione dei dieci spicchi dello scialle ovviamente io vi sto proponendo un modello che è visto e rivisto quindi non è un modello di mia invenzione trovate lo schema trovate la descrizione ovunque sia su youtube che in giro non vi so dire chi ha realizzato per primo questo modello quindi però ci tengo a dirvi che che non è frutto della del mio ingegno quindi io quello che ho fatto mi sono limitata a riprodurre qualcosa che qualcun altro ha già inventato questo per completezza di informazioni quello che andremo a fare assieme adesso quindi sarà l'avvio io ho utilizzato per tutto il progetto quindi se voi lo volete fare poi lo volete realizzare con il ricky e con il bixi potete utilizzare un uncinetto del 5 e mezzo 5 e mezzo 6 insomma a seconda di com'è la vostra mano la vostra tensione è qualcosa di molto estremamente pesante non tanto in termini proprio di peso ma pesante come come pesantezza proprio come il calore che può dare quindi sicuramente un progetto che è destinato poi a rimanere per il prossimo inverno se mai lo faceste con della lana io solitamente faccio di questi progetti con con dei filati insomma che comunque sono di qualità per me sono nuovi sono buoni non sono filati recuperati che però con tanti gomitoli non riuscirei a farci granché quindi per ovviare e per non cadere nella nelle solite granny quindi nei soliti quadrettini ho pensato poi diciamo che sono molto amante delle righe del lavoro a righe specialmente a colori ho pensato appunto di andare a lavorare tutto il filato che io avevo a disposizione a finire a finire che vuol dire che nel momento in cui ho visto che avevo un gomitolo molto piccolo quindi qualcosa di molto piccolo sono andata a fare delle righe proprio all'inizio quindi questo è un ragionamento che io vi invito a fare se mai aveste tanti gomitolini quindi e volete poi la riga dello stesso colore quindi con i ritaglini più piccoli con i gomitolini più piccoli di filato ho iniziato a scambiare il colore in cima perché comunque di filato ne occorreva meno man mano che aumentava il il diametro quindi tutto il tutta la larghezza dello scialle ho iniziato poi a utilizzare i gomitoli dove ne avevo un pochino di più sino a rendermi conto che ecco ad esempio qui per arrivando quasi all'ultima riga ho avuto necessità quasi di un gomitolo intero di di bixi perché comunque è una bella circonferenza poi il punto alto è un punto che comunque non è che risparmia il filato anzi piuttosto il contrario quello che poi ho fatto sono andata dopo che ho deciso quando ho deciso che era ora di interrompere perché il mio scialle misura ha una altezza quindi da da questo punto proprio dal vertice da qui fino all'ultima alla punta più lunga e all'incirca di 85 centimetri arrivata a questo punto io mi son fermata e ho fatto come decorazione un'alternanza di punti bassi seguendo sempre gli aumenti e le diminuzioni che mi porta poi lo schema a seguire chiudendo poi con una riga più scura per fermare la continuità delle righe questo ovviamente poi è qualcosa che voi potete decidere e fare come meglio credere adesso andremo ad iniziare da questa parte quindi facendo un cerchio magico e andando a fare all'interno un tot di numeri di punti alti che poi si andranno ad alternare a una serie di catenelle allora intanto non ve l'ho detto all'inizio ve lo dico adesso mi scuso per la voce ma purtroppo mi sono ammalata anch'io il covid da una settimana circa sto leggermente meglio quindi per proprio per proporvi qualcosa cerco di anche io di distrarmi e di passare un attimo questo questo momento un po particolare perché qui in famiglia l'abbiamo tutti siamo tutti positivi quindi siamo tutti in casa diciamo che anche questo per quanto nella complessità della gestione familiare insomma sia un po difficile mi ha permesso di poter comunque continuare a fare qualcosina quando nei momenti in cui stavo meglio perché se mai fossi dovuta stare in una stanza isolata per me sarebbe diventato tutto più difficile invece così col fatto che siamo tutti positivi siamo stati tutti male sono riuscito un po a gestirmi in modo diverso questo tutorial sarebbe dovuto uscire settimana scorsa scusate ma la settimana scorsa non sono proprio riuscita a lavorare non sono riuscita a far nulla quindi diciamo che slitta tutto un po di una settimana quindi oggi vedrete questo e poi a seguire tutti gli altri che vi ho proposto nell'unboxing che ho fatto giorni fa con i nuovi filati di cotone allora veniamo a noi e iniziamo il nostro scialle per prima cosa io ho preso il bixi chiaro e l'uncinetto 5 e mezzo e vi farò vedere proprio l'avvio che io ho eseguito per questo per lo scialle che vi ho presentato prima quindi non vado a prendere un altro filato la prima cosa da fare è fare un cerchio magico quindi chiudiamo il cerchio magico con una catenella facciamo 3 catenelle quindi questa la prima io non la contro ne faccio 1 2 e 3 e questo è il mio primo punto alto all'interno del cerchio magico ne vado a fare altri 8 quindi il totale dei punti alti che io dovrò avere per iniziare il mio lavoro sarà di 9 punti alti quindi il mio primo giro di lavorazione l'avvio sarà di 9 punti alti adesso dovrò andare a fare un punto alto su ogni punto che ho eseguito intervallato da 3 catenelle quindi faccio 3 catenelle per alzarmi e simulare il mio primo punto alto volto il lavoro rifaccio 3 catenelle 1 2 e 3 e dentro nello stesso punto facendo un punto alto questo passaggio come primo punto sarà un passaggio che si andrà a ripetere a giri alterni perché noi andremo a fare degli aumenti sulla prima e sull'ultima maglia un giro sia un giro no quindi diciamo che questo è il nostro primo aumento adesso andiamo a fare 3 catenelle 2 e 3 entriamo nel punto successivo e facciamo un punto alto facciamo nuovamente 3 catenelle 1 2 e 3 entriamo nel punto successivo e andiamo a fare un punto alto quindi andremo a ripetere per tutta una lavorazione 3 catenelle è un punto alto sul punto che abbiamo eseguito nel primo giro arrivate all'altra estremità quindi andremo a fare 123 catenelle e andremo a fare il punto alto puntando l'uncinetto sull'ultima catenella realizzata nel giro sottostante e quindi qui avremo finito il nostro secondo giro ci troveremo in questa situazione solitamente io il cerchio magico non lo stringo subito dopo aver lavorato il primo giro ma specialmente dove ci sono molti aumenti e molte ripetizioni nel giro subito dopo cerco di lasciarlo morbido in modo da poter gestire anche meglio il lavoro in mano adesso vado a stringere il mio cerchio magico e questa è la prima parte della mia lavorazione importantissima ai fini proprio di tutto il lavoro perché questo ci permetterà di andare a costruire i nostri spicchi adesso passiamo al rigo numero 3 nel rigo numero 3 vado a fare le mie 3 catenelle per simulare il punto alto quindi per alzarmi con l'uncinetto volto il lavoro e adesso dovrò andare a ripetere questa sequenza all'interno del mio occhiello andrò a fare un punto alto 3 catenelle e un punto alto questo secondo punto alto nel primo giro non andrò a chiudere quindi adesso mi sono alzata e ho fatto il mio primo punto alto filo sull'uncinetto entro all'interno del primo occhiello e vado a fare un punto alto ora faccio 3 catenelle 1 2 e 3 e devo andare a fare un punto alto all'interno sempre di queste di questo archetto questo punto alto però il secondo non lo andrò a chiudere quindi filo sull'uncinetto entro all'interno faccio mezzo punto senza chiuderlo e adesso vado a fare un altro punto alto sopra al punto alto che ho che separa i due archetti quindi filo sull'uncinetto entro all'interno di questo punto e prendo i primi due occhielli e vado a fare il secondo punto alto a metà entro nuovamente nell'archetto successivo quindi entro faccio un mezzo punto alto in questo modo adesso sull'uncinetto avrò quattro occhielli a questo punto vado a chiudere tutti e tre i punti alti assieme quindi io dovrò avere questa situazione un punto alto 3 catenelle un altro punto alto all'interno dell'archetto chiuso per metà un punto alto sopra il punto alto precedente il terzo punto alto nel secondo archetto tutti e tre i punti verranno chiusi assieme a questo punto scusate il gioco di punto e punto io sono all'interno dell'archetto ok quindi devo andare a fare a ripetere nuovamente le tre catenelle quindi una due tre catenelle ripeto esattamente quello che ho eseguito qui in questo passaggio quindi filo sull'uncinetto entro all'interno dell'occhiello e chiudo un punto alto per metà filo sull'uncinetto sormonto il punto alto che avevo nel giro precedente quindi entro prendo il filo e chiudo i primi due occhielli entro nell'archetto successivo chiudo i primi due occhiello del punto alto arrivato a questo punto li vado a chiudere tutti e quattro assieme e così io sto eseguendo il mio terzo giro in questo modo dove vado a preparare il mio lavoro per le righe successive e vado e inizio già con il mio primo giro di diminuzioni quindi facciamo un altro occhiello assieme vado adesso a fare le tre catenelle una due e tre filo sull'uncinetto entro nell'occhiello e chiudo i primi due occhielli del mio punto alto entro nel punto alto subito dopo quindi filo sull'uncinetto entro all'interno e vado a chiudere i primi due occhielli adesso sono nel nell'occhiello successivo quindi vado a rifare un altro mezzo punto alto entro chiudo i primi due e così ho fatto i miei tre mezzi punti alti che vado a chiudere tutti assieme e continuo così sin arrivare all'ultimo occhiello arrivati alla fine vado a fare tre catenelle due e tre entro nell'ultima catenelle seguita nel giro precedente e vado a fare il mio punto alto ed ho così eseguito il mio terzo giro per il quarto giro adesso non ho nessuna diminuzione da fare considerate che questi tre punti alti che abbiamo chiuso qui nel giro precedente quindi al terzo giro non sono altro che delle diminuzioni si alterneranno adesso dei giri di diminuzioni e dei giri di lavorazione normale quindi ad ogni un giro sì e un giro no andremo a chiudere tre maglie assieme in questo caso nel quarto rigo non dovremo andare a chiudere nulla quindi non andremo a fare nessuna diminuzione inizieremo subito con tre catenelle come se stessimo facendo un punto alto voltiamo il lavoro e andremo a ripetere un punto alto tre catenelle un punto alto all'interno di ogni occhiello che abbiamo qui sulla lavorazione quindi filo sull'uncinetto entriamo all'interno e facciamo un punto alto facciamo tre catenelle una due e tre andiamo a ripetere un punto alto fatto questo sui nostri tre punti alti che abbiamo chiuso in precedenza andiamo a fare semplicemente un punto alto entriamo nell'altro occhiello punto alto 1 2 e 3 e un altro punto alto al centro di questi tre punti chiusi assieme andiamo a fare un punto alto ripetiamo un punto alto 3 catenelle ed un punto alto e facciamo nuovamente un punto alto al centro di questi tre punti chiusi assieme e continuiamo così per tutto il giro una volta ripetuti i nostri punti v alla fine sono no perché sono due punti alti separati da tre catenelle arrivo a questo punto quindi vado a ripetere il punto alto 3 catenelle un punto alto adesso andrò a fare un punto alto sopra il penultimo punto quindi questo perché queste 3 catenelle come se fossero un punto alto ma in realtà sono delle catenelle per cui vado a fare il punto alto sopra a questo punto faccio un altro punto alto all'interno del mio occhiello faccio 2 catenelle e vado a fare un punto alto agganciandomi alla terza catenella sottostante ed ho chiuso il mio quarto giro inizio il quinto giro che si andrà a ripetere per tutta la mia lavorazione quindi questo quinto giro dove io avrò le diminuzioni lo andrò a fare a righe alterne nel primo rigo vado nel primo punto scusate vado sempre a fare le mie tre catenelle per alzarmi volto il lavoro e faccio un punto alto sullo stesso punto all'interno di ogni spazio vado sempre a fare il mio punto v quindi punto alto 123 catenelle punto alto adesso io questi tre punti che vanno a separare ogni archetto che ho formato finora devo andare a fare una diminuzione quindi faccio tre mezzi punti quindi tre mezzi punti alti tre punti alti non chiusi che andrà a chiudere tutti e tre assieme quindi filo sull'uncinetto entro nel primo punto e chiudo i primi due occhielli filo sull'uncinetto entro nel terzo e chiudo i due occhielli e chiudo i due occhielli e adesso vado a chiudere tutto assieme entro nell'altro archetto e faccio un punto alto 3 catenelle e un punto alto ripeto la diminuzione filo sull'uncinetto chiudo i primi due occhielli filo sull'uncinetto chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiude gli ultimi due i miei tre mezzi punti alti vengono chiusi tutti assieme punto alto 3 catenelle 1 2 e 3 e punto alto ripeto la diminuzione 2 e 3 e chiudo tutti assieme vado avanti così fino alla fine del giro arrivata alla fine lavoro punto l'ultimo punto alto sul punto alto che trovo sottostante lavoro un altro punto alto all'interno dell'archetto che avevo e qui ho terminato il mio giro adesso andiamo a ripetere un giro pieno quindi ci alziamo sempre con tre catenelle rifacciamo un punto all'interno del primo punto perché questo ci vale sempre come aumento e adesso non faremo altro che andare a lavorare punto su punto ripetendo sempre la v all'interno degli archetti quindi lavoriamo punto su punto incontrando l'archetto andiamo a fare punto alto 1 2 e 3 catenelle e nuovamente un punto alto a questo punto che siamo al sesto giro noi dovremmo andare a lavorare tre punti alti perché ne faremo uno sul punto che abbiamo sottostante uno per i tre punti chiusi assieme un altro per l'ultimo punto alto fatto in precedenza dopodiché andremo a ripetere nuovamente punto alto 3 catenelle e punto alto a questo punto abbiamo i nostri tre punti all'interno da fare allora se voi guardate un punto è quello che abbiamo fatto all'interno dell'archetto precedente un altro punto sarebbe quello formato dalla chiusura dei tre punti quindi delle diminuzioni e l'altro sarebbe il punto alto che abbiamo fatto nell'archetto sotto quindi qui dobbiamo considerare tre punti alti da fare per cui ne facciamo 1 2 e 3 una volta lavorati questi tre punti alti andiamo nell'archetto subito dopo e ripetiamo nuovamente punto alto 3 catenelle e punto alto ora quello che volevo farvi vedere quello che noi stiamo andando a fare sostanzialmente questo stiamo facendo crescere le nostre porzioni quindi i nostri spicchi in questo modo nel giro dispari andiamo a diminuire sempre le tre maglie centrali formando un solo punto nel giro successivo andiamo ad aumentare all'interno degli archetti le due maglie che abbiamo diminuito nel giro sottostante se noi capiamo questo principio riusciamo anche io questo lo dico specialmente per le principianti capiamo anche quando stiamo sbagliando noi dobbiamo avere una costante quindi gli aumenti all'interno degli archetti che formiamo ad ogni giro devono essere costanti sempre per ogni giro però mentre nei giri dispari li andiamo a diminuire chiudendo tre maglie assieme nei giri pari li andiamo a lavorare senza far nulla quindi giri dispari diminuzioni giri pari lavorare aumentando costantemente per ogni archetto arrivati a questo punto quindi siamo arrivati all'ultimo spicchio e dobbiamo fare il nostro bordo quindi andiamo ho fatto subito un punto alto all'interno dell'ultimo archetto ripeto le tre catenelle faccio nuovamente un punto alto all'interno del mio archetto e vado a fare punto su punto tre punti alti quindi 1 2 e 3 il terzo punto ovviamente lo andrà a fare sulla catenella sottostante adesso o il giro delle diminuzioni ora siccome io ho terminato il bianco e poi voglio anche farvi vedere il cambio di colore vado a prendere un altro colore facciamo il giro con le diminuzioni allora con un paio di forbici taglio il mio colore chiaro prendo in questo caso presi fucsia però qui non avrei dovuto chiudere l'ultimo punto quindi facciamo finta che io non ho chiuso il mio punto alto lo vado a chiudere con il mio secondo colore quindi prendo il mio secondo colore e vado a chiudere il punto alto ora faccio tre catenelle sempre per voltare il lavoro 1 2 e 3 mi faccio un nodino con i due cappiolini in modo che non mi non mi dia fastidio non mi scivoli e non si allenti troppo il lavoro durante il proseguimento quindi ho fatto le mie 3 catenelle volto il lavoro faccio un altro punto alto all'interno del primo punto questo perché perché io nei lati devo sempre andare a aumentare una maglia adesso vado a fare qui punto su punto sono arrivata all'altezza degli archetti e qui vado sempre a ripetere la costante del punto alto 3 catenelle il punto alto quindi filo sull'uncinetto all'interno dell'occhiello faccio un punto alto 3 catenelle ripeto il mio punto alto arrivate adesso a questo punto io devo andare a diminuire le tre maglie che ho al centro di tutte le maglie di tutti i prossimi punti alti ok se io li conto sono cinque punti per cui io vado a lavorare un punto alto ne chiudo tre assieme e lavoro l'ultimo punto alto ci siamo questo lo farò per tutte le sezioni quindi questo il mio giro dispari di diminuzioni quindi lavoro il mio primo punto questi tre punti li vado a chiudere assieme quindi il primo punto alto il secondo punto alto ed il terzo punto alto e li chiudo tutti e tre assieme lavoro l'ultimo punto ed ho fatto la mia diminuzione centrale adesso l'archetto con un punto alto 3 catenelle e un punto alto qui ho nuovamente cinque punti lavoro sempre il primo chiudo i tre centrali assieme e lavoro il secondo quindi lavoro il primo chiudo i tre centrali 1 2 e 3 li chiudo assieme e lavoro l'ultimo punto archetto un punto alto 3 catenelle e un punto alto e questo è il nostro lavoro e continuo così per tutto il giro nel giro successivo quindi nel giro 8 che il giro pari vado a lavorare punto su punto considerando che questi tre punti che io ho chiuso equivalgono a un solo punto quindi io andrò a fare un solo punto alto qui sopra le diminuzioni vanno fatte a giri alterni quindi un giro sì e un giro no il giro successivo a quello della diminuzione vanno lavorati tutti i punti all'interno sopra punto su punto e all'interno dei degli occhielli che noi abbiamo formato ci sarà sempre il punto v e sarà una costante quindi queste diminuzioni centrali si diminuiranno sempre i tre punti centrali faranno in modo che il lavoro il nostro lavoro ci dia questo vedete questa io ho iniziato da qui ok quindi ho fatto la diminuzione e si vede il giro successivo i punti lavorati tutti per come si presentavano poi la diminuzione man mano i nostri aumenti quello che noi andiamo a lavorare all'interno degli occhielli farà crescere costantemente tutti i nostri spicchi della lavorazione sino ad arrivare a un punto che ci sarà qui si formerà qui come una v e quindi viene questa specie di punto chevron se noi andiamo a cambiare colore ad ogni giro dispari quindi ogni volta che abbiamo la diminuzione il la questa piccola spiga centrale sarà più evidente quindi io vi consiglio se voi volete che il colore spicchi e quindi questa questa specie di onda spicchi su tutto la lavorazione andate a cambiare colore nel giro in cui dovete poi andare a fare le diminuzioni perché saranno più evidenti lavorate fino a quando volete potete farlo lungo corto a mantellina come volete e poi andate a chiudere allo stesso modo io per come ho fatto per come ho fatto vedere all'inizio ho chiuso poi con i miei tre giri quattro giri di maglia bassa ho sempre seguito alla costanza delle righe lavorando i colori che avevo lavorato nel corpo dello scialle e ho voluto chiudere così per dare un po di discontinuità a tutte queste righe più larghe lo potete lavorare con il punto alto punto altissimo con qualsiasi tipo di scusate di filato con l'uncinetto corrispondente quindi semmai lo replicate e se volete farlo anche con il cotone o con qualsiasi altro tipo di filato se me lo fate vedere a me a me farebbe piacere potete venire sulla mia pagina sul gruppo che abbiamo cerchi di maglia che abbiamo un gruppo su facebook oppure sulla mia pagina creativa mi potete iscrivere su instagram o semplicemente commentare qui questo video io spero di tornare presto e spero di tornare questa volta col cotone con dei progetti che sto già lavorando e mi auguro di poter veli proporre prestissimo ci vediamo al prossimo video ciao ciao